Ieri sera a Tarvisio per la seconda data del No Borders Music Festival che ha visto protagonisti sul palco di Piazza Unità gli islandesi Sigur Ros, gruppo post-rock islandese, seguito con interesse da numerosi fan e critici che inseriscono i Sigur Ros tra i gruppi capaci di scrivere le pagine più poetiche e bizzarre della musica degli ultimi anni. La band guidata da Jonsi Birgisson ha proposto sul palco del No Borders per la prima volta in Italia i brani dell'ultimo album del gruppo, Kweikur. La diciottesima edizione del No Borders Music Festival si chiuderà domenica sempre sul palco di Piazza Unità a Tarvisio col concerto di Franco Battiato parte dell'Apriti Sesamo Tour, nuovo capitolo musicale della carriera di Battiato.